Ben ritrovate e ben ritrovati. Un'altra domanda molto frequente riguarda i cicli mestruali dolorosi che magari poi nel tempo si associano a debolezza, irritabilità, molti sintomi sistemici noi diciamo di anemia da carenza di ferro, magari anche depressione che magari sono complicate anche da stress per lavoro, complicanze professionali o altro, candida e dolore ai rapporti. Di nuovo c'è una sequenza che noi dobbiamo considerare in questi sintomi. Innanzitutto il ciclo mestruale doloroso e o abbondante è un fattore predittivo di endometriosi. Avere un ciclo molto doloroso aumenta il rischio di endometriosi di 9 volte. Avere un ciclo mestruale abbondante aumenta il rischio di endometriosi di 5 volte e questo in studi molto diversi condotti in nazioni in continenti diversi. Quindi il dato è molto molto solido noi diciamo dal punto di vista scientifico. Si definisce un ciclo abbondante, questo per essere precisi, quando la donna utilizza più di 5 assorbenti esterni o di 5 tamponi nell'arco delle 24 ore. Se noi mettiamo insieme questi due rischi e consideriamo il terzo sintomo, dolore alla penetrazione, in particolare alla penetrazione profonda, abbiamo un trio che messo insieme aumenta la probabilità di endometriosi di oltre 25 volte. Quindi anche se il ginecologico signora non ha niente, nel senso, attenzione, non ha niente di ancora visibile con gli attuali mezzi di indagine, esempio ecografia non vedo nulla, con la capacità di risoluzione dimensionale dell'ecografia che non vede cose più piccole dei 2 mm. Ma 2 mm hanno già 14.000 cellule e 14.000 cellule moltiplicate per tante isolette di endometriosi ancora invisibili ma già presenti mi dà un incendio pazzesco. Ugualmente la risonanza, lesioni al di sotto dei 2 mm fa fatica a vederle e ugualmente se noi abbiamo un'endometriosi profonda nei tessuti, se anche facciamo una laparoscopia che vede cosa fiora nel peritoneo ma no cosa c'è in profondità, possiamo avere una laparoscopia negativa. Signora non ha niente, no, non ha niente di visibile con gli attuali mezzi di indagine. Sono due affermazioni radicalmente diverse e questo ci spiega perché ci sono 8-12 anni tra sintomi invalidanti, mestruazioni molto dolorose, cicli molto abbondanti e o dolore alla penetrazione profonda e la diagnosi di endometriosi quando finalmente vedo le lesioni perché sono diventate grandi da un punto di vista biologico. Grandi. Allora, il primo consiglio a tutte le creature che hanno questi sintomi è rivolgersi ai ginecologi attenti alla invisibilità della lesione endometriosica che nell'ombra può già fare danno e trattarle con una cosa semplicissima che sono o i progestinici in continua o una contraccezione in continua che può essere orale, transdermica, gerotto, transvaginale, l'anello vaginale, riducendo il numero di cicli, magari ogni 3-4 mesi una piccola mestruazione. Questo consente già di rallentare la comparsa o addirittura silenziare una malattia impegnativa come l'endometriosi. Il secondo sintomo è la candida e il dolore ai rapporti. Quelli che abbiamo chiamati da molti ricercatori i gemelli diabolici, il dolore vulvare all'inizio, in particolare il vestibolo all'entrata vaginale e in profondità. Perché questo? Ma perché una donna che ha dolore per anni ha un muscolo che si contrae sempre di più, il muscolo dell'elevatore dell'anno che circonda l'entrata vaginale. Ecco che nel tempo il dolore alla penetrazione profonda si complica col dolore alla penetrazione superficiale. La candida è dovuta al fatto che tutte noi, tutte le donne del mondo, hanno nel loro microbiota intestinale una piccola quantità di candida, normalmente dormiente, in forma di spora. Nel momento in cui noi abbiamo rapporti con un muscolo contratto e a causa del dolore con secchezza, perché il dolore è il più forte inibitore riflesso della lubrificazione, ecco che si creano microabrasioni all'entrata vaginale. La signora che dice ho la sensazione di avere dei taglietti lì. Cinecologo guarda, ma no signora non c'è nessun taglietto. Ho capito? Microscopico, non visibile agli occhi, ma i tessuti, un taglietto di micron, di millesimi di millimetro, lo sentono. E soprattutto i taglietti, anche di millesimi di micron, consentono al nostro sistema immunitario di entrare in contatto anche con quella poca candida fisiologica che c'è a livello vaginale. Questo cosa comporta? In particolare nel signore che hanno una vulnerabilità alle allergie, alle intolleranze, una risposta allergica alla candida aberrante e questo mi dà poi la vestibulite vulvare o vestibulodinia provocata. In sintesi, non trascuriamo mai le prestazioni dolorose, abbondanti e il dolore alla penetrazione profonda perché predicono un rischio molto aumentato di avere un'endometriosi ancora nell'ombra ma molto poi pericolosa per la salute. Contemporaneamente valutiamo il tono del muscolo elevatore dell'ano perché il dolore provoca contrazioni riflesse e quindi rilassarlo con un'opportuna fisioterapia è appropriato. Attenzione poi ai fattori che facilitano la candida, in particolare l'alimentazione che abbia un eccesso di zuccheri, glucosio, saccarosio e lieviti. Attenzione sempre poi all'attività fisica al mattino, una bella camminata anche per andare a scuola o andare al lavoro, 30 minuti almeno, meglio 45 perché ottimizzare l'utilizzo periferico dell'insulina che permette gli zuccheri di entrare nei muscoli mi mantiene un livello molto più fisiologico nel sangue e mi riduce quella spinta che invece gli zuccheri danno alla proliferazione della candida. Quindi stili di vita, attenzione, attenzione a diagnosticare correttamente e trattare correttamente questi sintomi di allerta sull'endometriosi e rilassare il pavimento pelvico in modo da dare a ogni giovane donna quel futuro di salute che merita. Grazie per l'attenzione.